Partito sette anni fa con cinque comuni aderenti, nelle 2025 ne conterà invece ben 27. Un percorso da numeri più che quintuplicati, quello degli itinerari della bellezza, che supera così l'adesione di oltre metà dei 50 comuni della provincia di Pesor Orbino che hanno scelto di mettersi in rete con Covcommercio Marche Nord per promuovere le proprie bellezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Nella cornice del Parco Oasi Verde della Diligenza di Borgo Pace è stata così presentata la versione estiva del 2024 degli itinerari in un momento di confronto fra programmi intrapresi e strategie future. Il Borgo Pace è una delle perle ambientali dei nostri itinerari della bellezza. È una località a confine con gli Appennini, anzi sull'Appennina, a confine con l'Umbria, veramente ricca dal punto di vista ambientale e oltre che storico-culturale. E' entrata quest'anno nel progetto itinerario della bellezza insieme ad altri tre comuni che hanno portato a 25 il numero delle amministrazioni comunali che hanno deciso nel 2024 di affidarsi a Covcommercio per la promozione turistica. Per un piccolo comune come il nostro poter avere qualcuno che si occupa della comunicazione e della promozione del nostro comune in una rete è una cosa per noi da soli impossibile da fare e in rete è possibile da fare. Il fatto di essere riusciti, il secondo punto, a mettere insieme e quindi a vendere, a proporre e a far vedere quanto è bello una porzione importante del territorio della provincia di Pesururbino, una porzione che tra l'altro va sempre più a crescere anche perché quando soprattutto gli stranieri cercano un luogo in Italia dove fare turismo si sa che non è che guardano i nostri campanili ma guardano le nostre bellezze che fortunatamente in una provincia come quella di Pesururbino puoi raggiungere anche in giornata con tempi molto stretti e quindi penso veramente che sia un grosso valore aggiunto. Già da oggi, lo diremo poi, lo confermeremo, sono 27 i comuni perché nel frattempo anche il comune di Monte Cerignone e il comune di San Costanzo hanno aderito al progetto ma altri per la verità sono in itinere, sono in arrivo perché la bontà del progetto sta nel grande lavoro che stiamo facendo per promuovere i territori e il fatto stesso è che i comuni continuano ad aumentare, sta a significare che stiamo lavorando bene i risultati poi, lo dicevo qualche giorno fa in un'intervista ad un giornale locale i risultati poi li vediamo anche dalle presenze nei musei che gestiamo noi il Museo di Pergola dall'anno scorso a quest'anno abbiamo fatto un aumento di oltre il 35% dei visitatori, Mondavio e Cagli dove abbiamo la gestione dal primo luglio dell'anno scorso oltre il 20% di aumento perché una cosa che io dico sempre agli amministratori non basta gestire i musei, bisogna promuoverli perché aprire e chiudere sono buoni tutti noi aggiungiamo a questa disponibilità dei nostri collaboratori anche la promozione dei siti a livello nazionale e internazionale, abbinata alla promozione generale dell'itinerario della bellezza comporta poi dei risultati così positivi 27 comuni sono ecco più della metà dei comuni della provincia questo ci riempie di soddisfazione tenendo conto anche che abbiamo in lista d'attesa dei comuni della provincia di Ancona dovremmo essere anche più orgogliosi di essere marchigiani perché abbiamo una caratteristica unica quella che in 40 chilometri di ampiezza noi abbiamo bellissime spiagge con grandi città che arricchiscono la nostra offerta turistica, culturale, artistica e storica ma anche piccoli centri spostandoci verso l'entroterra che sono a volte degli scrigni ancora sconosciuti molto spesso anche turisti italiani e allora noi dobbiamo promuovere il turismo ma allo stesso tempo investire come stiamo facendo in infrastrutture